Musica Dopo una lunga attesa prenderanno il via il prossimo 16 dicembre le preselezioni del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 10 unità di istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione di accesso D1 con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60% presso il comune di Cava dei Tirreni La prova si terrà presso la sede del forum dei giovani ex club universitario cavese ubicata all'interno della villa comunale con accesso dall'ingresso principale di piazza Eugenio Abbro secondo un apposito calendario predisposto dall'ente medelliano e pubblicato sul sito web Da palazzo di città inoltre fanno sapere che l'assenza dalla prova per qualsiasi causa anche se dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso e pertanto non sono ammesse e non saranno prese in considerazioni richieste per cambiare giornate o sessione di prova La preselettiva consisterà nello svolgimento di tre quesili a risposta sintetica ovvero massimo 20 righe e verteranno su diritto amministrativo, diritto degli enti locali, disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione diritto costituzionale, diritto dell'Unione Europea, legislazione in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture La durata delle prove è fissata complessivamente in 60 minuti Si parte quindi con la prima delle nuove procedure concorsuali indette dal Comune Metelliano per l'assunzione di 58 unità e per le quali sono state presentate poco meno di 20.000 domande Numeri impressionanti dunque in termini di partecipazione nell'auspicio di meritarsi un posto fisso Nello specifico il Comune di Cava dei Tirreni in totale dovrebbe assumere 58 figure professionali tutte a tempo indeterminato e a tempo parziale al 60% che nello specifico sono quelle di un agronomo, un architetto, un informatico, due istruttori socioculturali tre ingegneri, sei istruttori direttivi economico-finanziali, dieci istruttori amministrativi di categoria D e venti di categoria C prevista l'assunzione anche di 14 nuovi agenti di polizia locale Ovviamente il numero maggiore di domande giunte da ogni parte della campagna e non solo riguarda i venti posti di istruttori amministrativi di categoria C poiché per tale figura è richiesto soltanto il diploma